ciao a tutti bentornati nel canale di studio 72 oggi andremo a vedere come utilizzare ad o premier per pulire un audio ossia un audio con dei rumori di sottofondo prima di tutto vi ricordo di iscrivervi al canale qualora non l'abbiate già fatto ed ora passiamo al nostro tutorial io ho aperto il mio premiere e ho importato questo audio che ho registrato con il mio smartphone quindi la qualità audio ovviamente non è delle più eccelse e come andremo a sentire fra un po si sentirà del rumore di sottofondo innanzitutto ci tengo a precisare che i miracoli non si fanno se un audio è veramente disturbato non possiamo aspettarsi dei miracoli però con un minimo di accorgenza riusciamo andare a modificare al meglio il nostro audio in modo da togliere il più possibile appunto i rumori di sottofondo io vi consiglio qualora riusciate di assoltare l'audio magari con un paio di cuffie con degli auricolari in modo da sentire meglio la differenza fra l'audio originale e quello finito comunque fate voi come preferite comunque dicevo io ho importato quest'audio e la prima cosa che andiamo a fare appunto dopo aver aperto il nostro premiere ovviamente andiamo qui in alto su il pannello audio prima apre una piccola parentesi naturalmente per modificare l'audio si poteva tranquillamente col tasto destro del mouse andare per aprire la clip con adobe audition e andare a sistemare appunto l'audio tramite questo software appunto fatto appositamente per gli audio però dall'ultima release anzi la penultima perché già dal 2019 premiere appunto inserito la possibilità di usare alcuni parametri di adobe audition su adobe premiere in modo da andare a pulire l'audio direttamente su premiere senza dover andare su audition ovvio che se uno ha la possibilità e il tempo di fare le cose fatte proprio a regola d'arte usa audition comunque noi in questo momento andiamo a usare premiere con le nuove funzioni che ha introdotto appunto già dal 2019 quindi ci siamo portati appunto sul nostro sulla nostra schermata audio selezionando la nostra clip quad di fianco come vedete ci da quattro opzioni ossia dialogo musica degli effetti o l'ambiente io ora vi farò ascoltare l'audio che ho registrato appunto col mio smartphone ciao a tutti questo vuole essere un audio di esempio per farvi sentire appunto come andare a modificare anzi andare a pulire un audio con adobe premiere bene come avete sentito l'audio è oltre la voce molto metallica presenta molti rumori di sottofondo per andare a modificare in questo caso essendo un dialogo parlato quindi non è musica non sono effetti quindi è solo parlato noi andiamo su dialogo e ci apriranno appunto tutte queste funzioni noi andremo utilizzare questi due ossia riduci disturbo e riduci rimbombo come funziona questo effetto innanzitutto andiamo a selezionare il nostro riduci disturbo e stando tutto a sinistra praticamente la clip rimane originale quindi non gli viene applicato l'effetto spostandoci invece tutto a destra gli viene applicato l'effetto ora vi farò sentire appunto l'audio aumentando man mano il nostro effetto come cambia ciao a tutti questo vuole essere un audio di esempio per farvi sentire appunto come andare a modificare anzi andare a pulire un audio con adobe premiere ecco come vedete il brusio di sottofondo è già stato eliminato ecco come avete sentito già a 4 parte del rumore già molta parte del rumore di sottofondo è stata eliminata ciao a tutti questo vuole essere un audio di esempio per farvi sentire appunto questo è con l'effetto modificare anzi andare a pulire un audio con adobe premiere e questo è senza effetto come vedete il brusio di sottofondo è già stato eliminato ovvio è da andare a usare con molta cautela perché andando a interagire sulle frequenze audio più noi andiamo ad aumentare l'effetto più ci andrà a modificare anche la nostra voce infatti io lo metto al massimo ciao a tutti questo vuole essere un audio di esempio per farvi sentire appunto come andare a modificare anzi andare a pulire un audio con adobe premiere come sentite il rumore di sottofondo è scomparso totalmente ma anche la voce è stata molto modificata quindi più o meno in questo caso già da un 4 si può notare la nostra differenza un'altra opzione è quella di andare a ridurre il rimbombo nel caso siate non so abbiate registrato un audio in un'aula in una zona comunque molto ampia dove ci sia del rimbombo questo effetto ci permetterà appunto di andare ad eliminare parte del rimbombo quindi adesso abbasso del tutto il mio effetto ciao a tutti questo vuole essere un audio di esempio per farvi sentire appunto come andare a modificare anzi andare a pulire un audio con adobe premiere ecco già così adesso questo audio non presentava un gran rimbombo però già così è stato modificato parte del rimbombo se noi andiamo ad attivare entrambi i nostri effetti ciao a tutti questo vuole essere un audio di esempio per farvi sentire appunto come andare a modificare anzi andare a pulire un audio con adobe premiere come vedete il risultato è di certo molto migliore dall'inizio ripeto purtroppo i miracoli non li fa se un audio è molto disturbato non si possono fare grandi cose però insomma un minimo riusciamo comunque andare a gestire e a migliorare il nostro audio ovviamente dopo volendo si può andare a modificare anche tramite l'equalizzatore la tonalità della voce perché adesso è molto metallica però questo è un altro discorso che uno magari andiamo a vedere in seguito il fatto dell'equalizzazione questo video voleva solo spiegare come andare appunto a togliere quel brusio diciamo così di sottofondo che si hanno purtroppo ogni tanto utilizzando dei microfoni non proprio professionali quindi questo è tutto per quanto riguarda questo tutorial io vi ringrazio di avermi seguito vi ricordo nuovamente di iscrivervi al canale qualora non l'abbiate già fatto commentate per qualsiasi cosa se avete una qualche domanda una qualche curiosità o se avete un qualche argomento che volete appunto approfondire qualora posso vi rispondo molto volentieri visitate il mio sito www.studio-72.net e noi ci vediamo al prossimo tutorial ciao a tutti